Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud. La Firenze Mare, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e il Bivio con l'A1, tutto in direzione Firenze. Sulla diramazione Lucca-Viareggio, tratto chiuso nelle due direzioni tra Lucca Ovest e Massarosa, sul tratto inoltre coda ad un chilometro, ancora una volta nelle due direzioni. Infipili rallentamenti per traffico tra Lastra Signa e Firenze Scandici in direzione Firenze. Il traffico urbano di Firenze al via da quest'oggi, 19 luglio, i lavori per la linea tramviaria Fortezza San Marco, da quest'oggi i cantieri in Piazza della Libertà. Dal 21 luglio sarà la volta di Viale Lavagnini, Largo Martire delle Foibe e Viale Milton. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.